Fatti non foste per vivere come bruti, recitava il buon Dante, ma per seguirvi tutta è conoscenza. Allora, se noi stiamo a vedere quello che sta succedendo in questi tempi, sembra che non stiamo tanto seguendo questo monito, sembra che le contraddizioni in seno alla società stiano esplodendo. Io personalmente devo ringraziare il governo, le istituzioni, il Parlamento nella sua interezza, visto che tutti quanti hanno votato questa legge con la quale obbligano i sanitari a vaccinarsi. Quindi, un medico che ha da 40 anni svolge la sua professione, avrò visto migliaia e migliaia di pazienti, forse in più di 40.000 ore di lavoro clinico, credo di avere svolto e di stare svolgendo la mia funzione secondo scienza e coscienza. Ma, se non mi vaccino, sarò sospeso dall'ordine. Ci sono, no? Sembra, due posizioni che si stanno confrontando, che poi sono i dualismi che accompagnano l'umanità, probabilmente da sempre. Sono due posizioni architipiche, lasciando fuori un po' le teste e le code, lasciando fuori, come per fare la grappa, lasciando fuori gli scientisti a tutti i costi, gli scettici ad oltranza, i razionalisti più incalliti e lasciando fuori i negazionisti e i complottisti dall'altro lato. Troviamo, però, due posizioni che si confrontano. Chi è così contento di fare il vaccino e non vede l'ora di farlo, è soddisfatto e si sente sicuro quando l'ha fatto. E chi non vuole assolutamente fare il vaccino per dei motivi più svariati, perché ne ha paura, perché si sente inquinato, perché non crede nella potere del vaccino o perché ha una visione semplicemente diversa di come dovrebbe andare, come dovrebbe essere gestita la salute e dovrebbe essere gestito il proprio corpo-mente. Quindi, sembra che la questione sia vaccinarsi o non vaccinarsi, rispettare le regole oppure no. Ma questa è solo l'apparenza. In realtà c'è una pandemia ben più grave, ben più profonda e radicata, che, se noi andiamo a vedere, è come vedremo, ci accompagna. Senz'altro da secoli, forse da millenni. La pandemia emozionale. Una pandemia pervasiva, una pandemia che passa attraverso il comportamento delle persone, della normalità. Ma la vedremo tra breve. Intanto, volevo incominciare ringraziando i politici, gli scienziati, il Comitato Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità, i virologi presenzialisti, la regione Lombardia che mi ha intimato di vaccinarmi, favorendo così queste riflessioni che hanno dedicato, alle quali ho dedicato l'ultima settimana della mia vita. E' probabile che, alla fine, il pensiero dominante, il modello razionalista e riduzionista della nostra scienza vincerà la battaglia, sta già succedendo, il virus sta già calando la sua forza e già ci si sta attribuendo il merito, si sta attribuendo il merito ai vaccini. E' quantomeno un'operazione dubbia. Però senz'altro. La medicina, la scienza e la politica vinceranno. Ce la faremo, sì. Ce la faremo e torneremo alla normalità. Ma io vedo questo come una vittoria di Pirro. Il pensiero, il pensiero è dominante. La nostra società razionalista e materialista sta perdendo un'altra opportunità. E la vedo andare dritta verso una cosciente sconfitta. Stiamo perdendo l'opportunità. Potremmo dire che il virus sta continuando indisturbato, la pandemia sta continuando indisturbata, a traghettare sudoramente l'umanità verso il cosiddetto transumanesimo. E non uso qui l'accezione cognata da Tellar de Sardin e ripresa da Gillian Axley per indicare lo sviluppo delle potenzialità umane. Ma nell'accezione di Robin Anson o di coloro che hanno scritto il manifesto contro il transumanesimo per il quale le nuove tecnologie e la combinazione tra razionalismo e emotività ed emozione per i quali la confusione tra emotività e irrazionalità ci sta portando a un punto nel quale i nostri discendenti vivranno in simbiosi con la tecnologia. Probabilmente si riesce anche di perdere quelle che sono le caratteristiche più genuinamente umane. Vi leggo il manifesto del transumanesimo. Vi leggo ciò che coloro che hanno scritto questo manifesto, che sono tutti scienziati accademici, professori, ordinari, alle varie filosofie tendenzialmente del mondo anglosassane, come Vienna, Londra, Oslo, Oxford. Il culto del transumanesimo perseguita l'Europa e il resto del nostro pianeta. i suoi sacerdoti vivono in alcuni dei più importanti laboratori di ricerca e di università, nelle grandi cooperazioni e nelle istituzioni politiche. Il transumanesimo è una prospettiva negativa sulla natura umana, unita a una visione tecnico-scientifica che immagina il come dovremmo migliorarci. Questa prospettiva è sostrutta da una credenza superstiziosa nella scienza come salvifica, e da un astratto disprezzo per la nostra natura umana. La nostra fragilità, la nostra moralità, la nostra senzienza, la nostra autoconsapevolezza, il nostro senso incarnato di chi siamo, distinto dal come siamo. I transumanisti coniugano l'emotività con l'irrazionalità, il potenziale dormiente con la stupidità e la disabilità con la discrepanza. E come risultato di questo confuso approccio promuovono e spingono verso un futuro che ciecamente annuncia reti onnipresenti, geneticamente ottimizzate e guidate da computer in cui gli esseri umani, presumibilmente fallibili, sono manipolati e potenziati da un macchinario invisibile, presumibilmente controllabile e ottimizzabile, guidato da robot intesi quali il prossimo stadio di apparente evoluzione per l'umanità. non ci stupisce, non siamo tanto lontani, no? Non siamo tanto lontani. E guarda un po', la pandemia viene come se venisse e bussasse alla porta, un po' come la livella di Totò, viene e ci dice «Ok, dove sei? Guarda, lascia perdere i media, lascia perdere i colleghi, gli amici, i parenti, guarda dove sei tu». «Come pensi di passare per questa strottoia? Come stai affrontando? Tu e la tua anima questa sfida della pandemia? Vuoi tu risvegliarti, accorgerti di qual è la vera sfida, di qual è il messaggio? Confrontati con la paura, la malattia, la morte. Confrontati con il controllo, con il dramma del controllo. Confrontati con la normalità e chiediti, «Sei eroe o piccolo uomo, piccola donna? Qual è la vita che vuoi compiere? Vuoi tornare alla normalità? Oppure vuoi svegliarti, vuoi guarirti? Aspettati pure che non sarà facile se vorrai uscire dalla narrazione ufficiale e guardare un po' oltre quello che sta succedendo. Non sarà facile Primo perché devi vedere te stessa a te stesso Secondo perché ci saranno resistenze ovunque intorno a te Pensa Alla metafora della caverna di Platone Villa Alla metafora della caverna di Latte Alla metafora della caverna di pregazione Le schimbato di Nutzer Apporto di Platone Apporto di Notiz